Siamo qua nel municipio di Riva Ligure insieme al sindaco Giorgio Giuffra. Un anno dall'introduzione della raccolta porta a porta il comune a Riverasco ha ottenuto risultati eccellenti, ovvero l'80%. Cosa dire di tutto ciò? Innanzitutto dire grazie ai cittadini e grazie a loro abbiamo raggiunto questo straordinario risultato. Un risultato è vero difficile da raggiungere ma al tempo stesso affascinante e bello oggi da godersi tutti insieme. Abbiamo vinto il primo tempo di una sfida molto più lunga, una sfida che vede l'ambiente quale protagonista principale che mette l'ambiente al centro della questione amministrativa. Sicuramente nei prossimi mesi ci sarà ancora da lavorare, lavoreremo perché i cittadini siano anche motivati, incentivati a continuare nella loro opera di sensibilizzazione ambientale, lo faremo con le scuole, lo faremo con tutte quelle persone che hanno a cuore Riva Ligure ma che hanno a cuore soprattutto l'ambiente. Ecco poi un'altra cosa importante, una vera notizia ovvero che Riva Ligure sarà forse la prima in Liguria a introdurre il pagamento puntuale della differenziale. Sì, una novità che introdurremo quest'anno, non so se siamo i primi ma comunque siamo tra i primissi a introdurre la tarifazione puntuale che significa che ogni cittadino pagherà per quello che produce. Quest'anno introdurremo la nuova tarifazione in un primo step per completarlo nell'arco del triennio e che consentirà a tutti i cittadini di pagare quello che realmente producono. Nel frattempo tutti si potranno godere una buona notizia ovvero che l'avvio della raccolta differenziata e queste percentuali sicuramente al di sopra delle aspettative comportano già per la bolletta di quest'anno un risparmio del 10% di media per tutti i cittadini di Riva Ligure. Quindi la notizia nella notizia è che oggi i cittadini di Riva Ligure oltre ad aver fatto un'opera importante per l'ambiente hanno anche alleggerito le proprie spese riducendosi grazie al loro impegno quello che è la tarifazione e quindi le tasse. Grazie mille.